residenti da una parte gestori dall'altra e in mezzo i ragazzi della movida la polemica è partita dalle piazze e dai vicoli del borgo antico ed è arrivata sino alle bacheche di facebook post commenti e immagini che immortalano il centro storico di andrea affollato come non mai nel giorno della vigilia di natale dj set musica dal vivo ed un fiume di persone che invade il centro storico mai così al centro di una festa che coinvolge tutta la città dopo gli appelli alla civiltà e a non alzare troppo i decibel la tradizione si è rinnovata anche quest'anno e senza particolari conseguenze messaggi compiaciuti sono comparsi sulle pagine social del sindaco di andrea nicola giorgino che ha espresso soddisfazione per la serenità con cui si sono svolti gli eventi del 24 dicembre e dell'assessore pierpaolo matera con allegata foto di piazza balilla ripulita dai gestori dei locali della zona a festa finita e riconsegnata alla città più canida di prima tutti contenti neanche per sogno a suonare la campana della discordia e il comitato residenti del centro storico che pur associandosi al plauso rivolto alle brigate di due o tre attività si lamenta del mancato rispetto delle regole da parte di tutte le altre della solita inciviltà di alcuni cittadini e dei controlli sonori promessi ma che in realtà non ci sarebbero stati soprattutto nei giorni precedenti il 24 come se non bastasse è scritto in un altro post del comitato la marea di gente che ha affollato le strade della città vecchia durante la vigilia ha reso difficile a chi ci vive anche il semplice uscire di casa fare la spesa o accogliere ospiti costringendo di fatto i residenti a rimanere reclusi nelle proprie abitazioni un disagio sopportabile per poche ore di allegria si legge in alcuni commenti necessario se si vuole fare del borgo antico il cuore pulsante della vita cittadina così come accade in tante altre parti d'italia a patto che vengano rispettate le normali regole della convivenza la verità come sempre sta nel mezzo anzi in questo caso nel centro